La prevenzione che salva la vita, conoscere il tumore della prostata, è il nuovo progetto della Fondazione Longevitas, una campagna informativa rivolta alla popolazione senior e finalizzata a promuovere la consapevolezza e la prevenzione contro il carcinoma prostatico, uno dei tumori più comuni tra gli uomini in Italia. Nel 2023 in Italia sono stati diagnosticati 41.109 casi di tumore alla prostata, con un aumento del 14% negli ultimi tre anni rispetto e 36.000 casi rilevati nel 2020. Se ne è discusso a Palermo, al circolo Auser-Leonardo-Sciascia. È aumentata non solo la vita media, la durata della vita, ma è aumentata anche la sopravvivenza delle persone interessate da questo tumore, perché è vero che il tumore alla prostata è uno dei più diffusi tra i tumori maschili, ma è anche vero che oggi la sopravvivenza a 5 anni è altissima, arriviamo al 91%, e anche i tassi di guarigione sono molto elevati, quindi vuol dire che si vive più a lungo con questa patologia come con una vera e propria cronicità. Chiaramente affinché sia possibile tutto questo. Grazie all'innovazione tecnologica e nuovi protocolli di cura, anche i casi più complessi possono beneficiare di trattamenti sempre più mirati ed efficaci. Sicuramente la prevenzione, come in tutte le patologie oncologiche, è fondamentale sia per intercettarlo, ma anche per offrire con una diagnosi precoce tutta la possibilità terapeutiche che noi oggi abbiamo per combattere e per far guarire queste persone da questo tumore. Quindi sicuramente la prevenzione, il controllo, la visita urologica e il test del PSA sono dei momenti fondamentali che ci aiuteranno a ridurre quelli che sono le complicanze di questo tumore. Quali sono i principali sintomi appunto del tumore alla prostata? Dunque, il fatto è che spesso il tumore alla prostata non dà sintomi particolari, può essere un tumore silente ed è il motivo per cui le persone, anche le più giovani nel caso in cui ci sia stata una familiarità per questo tipo di tumore, devono rivolgersi al loro medico, devono andare dallo specialista e sottoporsi a quegli esami necessari proprio a verificare se ci sia o meno un problema di questo tipo. Grazie a tutti.